Buongiorno a tutti. Il tema di cui noi ci occupiamo questa volta è complicato. È complicato essenzialmente nel titolo, perché credo che tutti i giuristi della terra si sobbalzerebbero a sentire un politologo, oltretutto, quindi non uno della grande famiglia, che mette insieme i diritti umani e i doveri internazionali. La parola dovere nel mondo internazionalistico praticamente non esiste. Cercherò di far vedere invece come le cose stiano in termini molto diversi. Una seconda premessa che mi sembra giusto fare è relativa al fatto che avrei voluto e potuto incominciare la mia presentazione del tema con delle citazioni di eventi recenti. Ma devo dire che in queste settimane, in questi giorni, sono talmente successe tante gravi, gravissime violazioni dei diritti umani che sono sotto gli occhi di tutti noi. Quindi forse non è neppure il caso che mi ci soffermi. E vengo al titolo. Allora, diritti umani e doveri internazionali. A chiunque appare immediatamente l'anomalia rappresentata. Sono due parole che fanno a pugni dette nei termini in cui le ho dette io. Cosa sono i diritti e che cosa è il dovere? Molto sinteticamente e molto alla buona, non c'è dubbio che la parola diritto sia ricchissima, piena di molte possibili coniugazioni, varianti, variazioni, accordi e disaccordi addirittura in termini terminologici. Dall'altra parte, invece, abbiamo la parola dovere che è molto semplice. L'idea del dovere ci dice subito che si tratta di un qualche cosa che dobbiamo fare e se lo leghiamo alla parola diritto ci fa anche pensare che se un dovere non viene, che il diritto ti aveva assegnato, che non viene eseguito, beh, scatta anche la sanzione. C'è addirittura al limite, se vogliamo, il diritto penale che risolve questi tipi di problemi. Se volessimo schematizzare in modo un po' più rigido e per essere sicuri di camminare su un piano, su un terreno sicuro, potremmo dire che mentre il diritto non ha nulla, il diritto positivo ovviamente, non ha nulla a che vedere con una dimensione di tipo morale, nel caso del dovere internazionale in particolare, è ovvio che ci si muove non sul piano della certezza delle norme, ma all'incontrario totalmente e completamente sul piano della morale. O meglio, per non spaventare nessuno, questa è una delle mie ipotesi di partenza e cercherò adesso naturalmente di argomentarla. Potremmo ancora dire che mentre i diritti umani sono assoluti e sono incoercibili e illimitati, rimane da parte poi il dubbio su quale sia il contenuto dei singoli diritti, ma questo è ancora un altro problema importante, ma almeno un esempio che però è molto più che un esempio non posso non farlo. Ed è quello che riguarda una delle ultime uscite del presidente turco Erdogan, il quale ha usato una frase particolarmente interessante da analizzare. Erdogan, per quanto riguarda le applicazioni della normativa sulla protezione delle donne, sul diritto internazionale da molti stati, ma non tutti sottoscritti e così via, ma non importa, si tratta di una convenzione firmata oltretutto proprio in Turchia, la sede dell'incontro era proprio la Turchia, e Erdogan l'altro giorno, tra quattro giorni fa, ha detto, cito, per tutelare le donne non è necessario cercare rimedi esterni o imitare gli altri. Uno in prima battuta dice, ma per bacco, giusto, gli uomini e le donne sono uguali, non c'è bisogno di nulla. Questo in un mondo ideale, perfetto, ma la cosa che io trovo gravissima in questa affermazione è il far finta di far passare una notizia che è esattamente il contrario. Non è vero che non c'è bisogno di cercare rimedi particolari, perché non fosse altro che le pagine dei quotidiani e certe volte addirittura le notizie che arrivano da conoscenti, amici e così via, ci dimostrano che le cose... non ci sarebbe bisogno di petizioni, per esempio, se fosse vero quello che diceva. Quindi è una malizia aggiuntiva, non è solo un mancato rispetto dei diritti della donna, ma è anche un tentativo di convincerti del fatto che non ce n'è proprio bisogno e questo è particolarmente grave, naturalmente. Una buona sintesi di quello che si rappresenta a quel titolo è tutti i diritti appartengono agli esseri umani, tutti i doveri appartengono agli stati. Aggiungerò per la precisione che la parola dovere per gli stati naturalmente ha a che fare con la dimensione pattizia, cioè non esiste nulla sulla scena internazionale di giuridicamente rilevante che non sia il prodotto di un patto, cioè di una trattativa, di una discussione e di un accordo. Noi siamo del resto abituati a pensare che il diritto internazionale sia per gli stati la sfera della loro libertà. Cosa vuol dire diritto internazionale? Che io ho rapporti con altri stati con riferimento tra la statualità mia e la loro e così va tutto bene. Vedremo tra un secondo che le cose non stanno assolutamente così. Aggiungerò a lato che questo incontro tra diritti umani, diritto positivo interno agli stati, diritto internazionale e la dimensione politologico-internazionalistica per mezzo della quale sto sviluppando questi argomenti rappresenta un nodo veramente di straordinario interesse, un intreccio che ci fa vedere l'importanza del riflettere continuamente su questo tema. E tanto per salire su delle spalle sufficientemente grandi, potenti e importanti, salirò su quelle di Kant, il quale nel trattatello per la pace perpetua, tra tantissime altre cose ancora magari più importanti, ma ne dice una che fa esattamente al caso nostro. Dice Kant, la violazione del diritto in un punto della terra è una violazione in tutti i punti della terra. Ora, vorrei, spero di non mancare di fiducia nell'intelligenza di chi mi ascolta, ma in un certo senso, lo sappiamo tutti benissimo anche oggi, non c'è nulla che possa giustificare la differenza tra due esseri umani in un qualsiasi punto della terra e che lo stesso evento in due diversi punti della terra, sul piano naturalmente etico, non può avere risultati di forme diversi, non è possibile. Si andrebbe a sbattere contro l'idea stessa del riconoscimento della categoria essere umano. Che tu sia turco, tanto per non andare lontano, che tu sia brasiliano o canadese non cambia assolutamente nulla. Lo sapevamo certamente già, non c'era bisogno che ritirassi io fuori questo aspetto ora. ma il fatto è che di fronte a questa grandiosa e oggettiva eguaglianza, che cosa si erge con una potenza, ahimè, forse invincibile? Si erge l'autorità dello Stato perché i cittadini vivono oggi come oggi almeno, in sostanza, ma potremmo dire anche di tempi passati, i cittadini vivono, tutti i cittadini vivono dentro uno Stato. Vivendo dentro uno Stato, affinché un qualsiasi cittadino abbia bisogno, gli sia necessaria una protezione statuale dello Stato, evidentemente ci deve essere stata un'accettazione reciproca. Ma allora, come si fa a collegare il diritto, non solo quelli specifici dei diritti umani, ma come si può collegare il diritto dei cittadini con il diritto internazionale che copre spontaneamente e direi quasi involontariamente lo spazio di tutti gli esseri umani sulla Terra? perché una norma sui aspetti fondamentali non può modificarsi naturalmente con la geografia. Una frase che mi sovviene adesso, bella quasi come quella, anzi altrettanto bella come quella di Kant, è una frase di Pascal, tra l'altro quindi ancora precedente, che a un certo punto in uno dei suoi pensieri esclama, ma com'è possibile che ci sia un diritto a nord dei Pirenei e un diverso diritto a sud dei Pirenei? Detto questo, potremmo dire che il significato del mio intervento è finito, perché qui siamo di fronte veramente a due proposizioni, o anche solo a quell'altra, fondamentali. Io ho più volte riassunto questo tipo di considerazione in una formula che, confesso, non è mia in origine, ma è stata pronunciata una prima volta dal Presidente della Repubblica Federale Tedesca, in un contesto un po' diverso di cui mi sono, come dire, appropriato. Tutto ciò fa sì che noi siamo dei cittadini che vivono in una politica interna del mondo. Pensiamo come è bella questa affermazione. Tutto il mondo vive in una stessa società politica. Allora, ma che cos'è tutto questo mondo? Il mondo è fatto di individui, è fatto di stati ed è fatto, per il motivo che ho appena indicato un attimo fa, di concittadini. Noi siamo tutti concittadini dello stesso modo. Questo ci porta facilmente a considerare il grande riferimento storico-politico della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, quella formulata dall'UNESCO e poi approvata dai gruppi di ricerca dell'UNESCO e poi approvata dall'Assemblea Generale dell'UNESCO, che si compone di trenta articoli, dei quali vale la pena, non li leggo naturalmente, ma vale la pena precisare un attimo, un po' come nella nostra carta costituzionale, che ci sono dei titoli che distinguono diverse parti. In questa carta non ci sono distinzioni, ma le vorrei proporre in questo modo. I primi tre articoli, questo potrebbe essere una piccola guida di lettura molto utile anche se avessimo, se avremo o quando avremo, nei corsi anche di educazione civica, l'occasione di parlare di questi argomenti. I primi tre articoli riguardano l'eguaglianza assoluta tra gli esseri umani. Gli articoli dal 4 al 12 hanno a che fare con il rapporto tra i diritti e le leggi, le leggi che sono degli strumenti puramente materiali, potremmo dire, che hanno il compito di realizzare, di difendere, di far conseguire i diritti. Gli articoli dal 13 al 18 riguardano la libertà nella sfera personale. È evidente che si tratta di nuovo di una cosa di importanza immensa. Ma attenzione, sto facendo questo elenco perché poi alla fine tirerò fuori una carta importante. Gli articoli dal 13 al 18, libertà personale, come ho detto. Gli articoli del 19 a 21 riguardano la libertà politica, cioè la sfera dell'azione politica a cui i cittadini possono ricorrere. Da 22 a 29 abbiamo la vita sociale, la socialità, tutti i rapporti che sono quelli che noi viviamo tutti i giorni tra di noi. Ma c'è l'ultimo articolo, l'articolo 30, che vi leggo ma sono pochissime righe, che leggerò, nessun problema. L'articolo 30 recita nulla può essere interpretato in modo da implicare un diritto di un qualsiasi stato, gruppo o persona a esercitare un'attività o a compiere un atto mirante alla distruzione di qualcuno dei diritti e delle libertà e ne si è enunciato. Cioè, nessuno stato può in qualsiasi modo violare quei 29 precedenti articoli. Ma questo è un impegno che è stato firmato. È vero, mi si potrebbe dire, è stato firmato tanti anni fa, cosa importa, cosa contano queste cose qui. Ma non è tanto vero, perché in realtà noi, come in tutto, camminiamo sempre sulla strada che abbiamo aperto magari tanto tempo fa, ma che continua a esserci. Tu una norma o la fai decadere con dei motivi seri e validi, oppure non la si può toccare. Andiamo un attimo più sul concreto. Tra i tanti diritti che sono, non mi pare che la parola sia usata direttamente, ma non importa il senso è lo stesso, prendiamo qualche caso particolarmente significativo. Gli esseri umani hanno diritto di emigrare? È una domanda finovvia, no? Però, perbacco, il diritto all'emigrazione, e non parlo soltanto del diritto a essere difesi e protetti per i profughi, le vittime di guerra, tutte quelle cose che ovviamente sono ricomprese nel nostro discorso, ma è l'emigrazione in quanto tale che non può essere proibita. Certo, puoi regolamentarla per motivi tecnico-materiali, ma il principio del diritto ad emigrare, di andarsene ad andarsene da un'altra parte, non può essere vincolato. A questi primi doveri, come vedete, ho cominciato a toccare il lato dei doveri di quello che gli stati devono fare. Purtroppo c'è un primo piccolo neo che però può avere influenza enorme, basata sul fatto che le norme del diritto internazionale, che come ho detto prima sono pattizie, facilmente sono ambigue, o sono aggirabili, o possono venire dimenticate per motivi contingenti, se volete politici, per motivi vari. E in questo caso il problema diventa. Esiste un diritto generale sempre comunque ad avere tutto o ci sono dei limiti, dei vincoli. C'è una parte del diritto interno dei cittadini che possa essere rivendicata dallo Stato che dice no, su questo la libertà, l'autonomia non te la posso dare. E questo è il problema reale, grosso. Naturalmente non sono io, non l'ho scoperto io questo problema. Vediamo come sia stato impostato, non dico nella storia perché sarebbe troppo lunga, ma almeno nella seconda metà del ventesimo secolo. Noi abbiamo da una parte n diritti interni, cioè ogni Stato ha il suo diritto interno, e poi abbiamo un diritto internazionale, un sistema, chiamiamolo così, di diritto internazionale. Vediamo un po' nel caso italiano, tanto per cominciare. Due articoli fondamentalmente toccano questo argomento, l'articolo 10 e l'articolo 11. l'articolo 11 è quello famosissimo che dice l'Italia ripudia la guerra come strumento di soluzione. Ma lo evoco perché è un grande monumento e che è collegato, che però è la conseguenza dell'articolo precedente. Il 10 che dice l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Vediamo che questa frase è perfetta, è giustissima, io la cito soventissimo. L'Italia, l'ordinamento giuridico si conforma alle norme generalmente riconosciute. Ora, vorrei dire, è certamente generalmente riconosciuto, tolto che in qualche posto, che l'omicidio di quell'africano che, insomma, Floyd è quello che venne ucciso soffocandolo. Beh, è certamente un tipo di atto che è generalmente rifiutato dalla comunità internazionale e quindi la cosa, come vedete, ha una sua importanza che si ricollega però, per ora almeno, a elementi accessori. Certo, l'opinione pubblica, certo i quotidiani che ne parlano, che ci fanno riflettere su questi aspetti, ma è chiaro che il giurista che mi sta ascoltando con un orecchio un po' preoccupato, il giurista diceva beh, di queste cose qui non te ne puoi fare assolutamente nulla, poi, sul piano tecnico del vero rispetto. Allora, bisogna chiedersi un po' più attentamente quale sia il rapporto che esiste tra questi due sistemi, il livello dei diritti interni e il livello del diritto internazionale. Tra i tanti che hanno affrontato questo problema, uno dei più celebri è Hans Kelsen, Kelsen, il quale ha dato, secondo me, la giustificazione, la spiegazione più affascinante su tutto ciò. Per farla breve, perché se no il discorso richiederebbe una lunga divagazione, fondamentalmente Kelsen si affida a una specie di immagine, dice che il sistema giuridico in assoluto, è una specie di grandiosa pirata. C'è una cosiddetta norma fondamentale che possiamo dire, che potremmo trasformare nell'espressione che dicevo prima, l'ordinamento giuridico italiano si conforma all'ordinamento internazionale accolto. Allora, c'è una norma fondamentale che dice si deve andare d'accordo, diciamolo così, alla buona. Ma poi in realtà tutte le norme di livello diverso che vengono formulate, che vengono prodotte, richiedono, devono necessariamente essere ispirate alla norma fondamentale, all'inizio, la punta della piramide. Quindi esiste un sistema universale che si divide in diverse parti. Al fondo, se posso dire così quasi scherzosamente, dove la piramide è ovviamente nelle sue dimensioni più larghe, al fondo c'è il diritto interno o i diritti interni, ciascuno dei quali però deve poter fare riferimento e risalire fino ai massimi principi. Potremmo rimetterla altrimenti in questi termini. Ogni Stato ha rapporti con i suoi cittadini, poi ha rapporti, poi contemporaneamente, ha rapporti con altri Stati, non solo, ogni Stato ha rapporti anche con i cittadini degli altri Stati. Quindi se noi potessimo come dire immaginare un grande rettangolo tra questi quattro soggetti, Stato, Stato A e Stato B, cittadino A e cittadino B, le frecce dei loro incroci sono quattro e sono tutte ugualmente rilevanti e importanti. E quindi non si può non tenerne conto, anche perché il diritto internazionale mica nasce per regolare, per limitare le guerre o per fare i trattati di pace, come sovente si pensa che appunto il diritto internazionale sia quello che potrebbe aiutarci a combattere contro i pericoli di guerra. In realtà non è vero, perché quando la guerra è totalmente, o la violenza, totalmente al di fuori di una normazione, il diritto non può coesistere con una guerra. Quindi il cosiddetto diritto bellico è una specie, mi si permetta questa battutaccia, è una specie di trucco che serve per farci apparire il mondo diverso da quello che in realtà. Questo significa che lo Stato, ogni Stato, non ha un solo interlocutore, ma ha tutti gli altri Stati, tutti i suoi cittadini e tutti gli Stati altrui. Il che ci porta a toccare quell'altro argomento estremamente importante e, ahimè, altrettanto fallimentare, che riguarda i problemi di ingerenza tra Stati con riferimento ai rapporti tra i cittadini. Nel 2005 l'ONU, per determinati motivi, promosso una grande convenzione internazionale, il World Summit del 2005, in cui venne elaborato il famoso duty to protect, il dovere di proteggere. Ovvero, questo venne fatto con particolare riferimento allora al caso libico, ma nel momento in cui una popolazione di qualsiasi parte della terra sia violata nelle sue libertà o anche solo per alcune parti, ma insomma, quando le cose stanno così, la comunità internazionale in quanto tale ha il dovere di intervenire. Bene, sappiate che tutto ciò non è mai successo, però il fatto è che senza lo Stato, senza gli Stati, senza lo Stato non si può fare nulla e direi nulla di buono perché i cittadini cosa fanno? Prendono dei mitra? No, questa era per esempio la risposta terroristica. Siccome lo Stato non fa nulla, io faccio saltare in aria lo Stato. Questo è un altro tema che sarebbe interessantissimo approfondire, ma non lo possiamo fare qui. Ma dunque, senza lo Stato non si può fare nulla di buono. Ma se lo Stato non è buono, che cosa ne verrà fuori? Che farà? Cose cattive. Ecco dunque che la nostra attenzione verso il dovere internazionale dovrebbe crescere immensamente perché è lì il punto in cui noi ci stiamo giocando o ci giocheremo le nostre partite. Vi faccio un altro esempio rapidissimo perché i tempi sono il tempo e i tempi sono quelli che sono. La questione europea dei vaccini è un paradosso dal punto di vista del mio argomento perché gli Stati e quelli dell'Unione avevano e hanno il dovere di darlo allo stesso modo a tutti i cittadini europei. Naturalmente a tutto il mondo, ma qui non andiamo neanche troppo in là. Navalny, il contestatore russo di Putin. Trattamenti disumani di questo tipo avrebbero dovuto sollevare l'opinione pubblica mondiale, invece ci siamo accontentati di qualche piccola condanna sui giornali, ma senza che ne venissero fuori cose straordinarie. Allora per concludere e per insistere se posso un pochettino sulla importanza dell'arrovesciamento della tradizione del diritto internazionale che dovrebbe trasformarsi in doveri internazionali, vorrei osservare che l'assenza anche parziale all'interno di uno Stato di diritto, del rispetto di determinate norme, è decisiva per giudicare la qualità dello Stato. Uno Stato democratico non può fare cose non democratiche, diciamo così alla buona. Così come uno Stato fascista possiamo essere sicuri che farà delle cose fasciste. Allora, e tutto questo influirebbe in modo drammatico e enorme sulla possibilità di affermare i diritti, di far proseguire i diritti umani nel mondo. Allora, come mi succede da 50 anni, ogni volta che ho un problema di scientifico, culturale particolarmente delicato, io mi rifaccio alla lettura di qualche scritto del mio maestro, un certo Norberto Bobbio, il quale a questo proposito ha una pagina, ma viene poche righe, per me straordinarie e che illuminano tutte le cose che spero di essere riuscito a comunicarvi. Dice Bobbio, il riconoscimento e la protezione dei diritti dell'uomo stanno alla base delle costituzioni democratiche moderne. La pace è a sua volta il presupposto necessario per il riconoscimento dei diritti dell'uomo. Nello stesso tempo il processo di democratizzazione non può andare avanti, di democratizzazione degli stati, scusate perché ho saltato un pezzettino, non può andare avanti senza la graduale estensione del riconoscimento dei diritti umani. E poi la conclusione. Diritti dell'uomo, democrazia e pace, diritti dell'uomo, democrazia e pace, sono i tre momenti necessari dello stesso movimento storico. Senza diritti dell'uomo riconosciuti e protetti non c'è democrazia. Senza democrazia non ci sono le condizioni minime per la soluzione pacifica dei conflitti. Questa è un'affermazione che sistema, che completa perfettamente il nostro discorso. Mi permetto di aggiungere solo una parola. Se potessimo dar vita a scegliere una sola di queste grandi dimensioni, il mio consiglio, la mia speranza sarebbe democrazia. La democrazia vissuta secondo la sua concettualizzazione più profonda è la garanzia dei diritti umani e della pace. Non potremmo volere nulla di più. Basterebbe essere democratici. Spero di non avervi annoiato o sconcertati. Vi saluto.